Sofiane è partito No aspetta è partito Sì sta andando Vai 20 kg 50 kg Oh, io ti sono ragazzi Vabbè figa sì Non si becca tutto Bene Bene 3 4 5 6 7 8 9 10 Le mani, le mani 1 2 Stacca bene le mani Wow Mani 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 Non c'è una 10 Non c'è una 10 Non c'è una 10 10 11, vai 12, vai 13 14, vai, vai, non puoi 15 16, vai, vai 17 17 Fiata, fiata, stacca le mani 1 2, vai 3 4 5 Dai l'ultimo 6 17, perdi Salta, salta, va 18 19 20 21 22 23 24 24 24 25 26 25 27 27 28 25 25 25 25 25 26 27 27 27 28 29 29 29 Vai, dai un'altra almeno eh 30, va Dai un'altra 31 31 31 31 31 32 31 32 32 32 33 33 33 34 35 35 35 35 35 35 36 37 35 35 35 35 36 38 39 35 35 36 36 37 37 37 38 39 39 40 42 40 41 42 42 42 42 42 43 44 44 42 42 42